Un altro capitolo del libro della pubblicazione di Giovanni Matera, la cassetta degli attrezzi, Giovanni Matera lo ricordiamo, ma ormai è arci noto, è imprenditore, è titolare della Matera Redamenti, ma è un grosso esperto di marketing, autore appunto di pubblicazioni e di creatore di vari corsi di formazione davvero di successo. Oggi il capitolo che noi affrontiamo è una domanda, una domanda che ci siamo posti tante volte, ci poniamo forse ogni giorno, perché alcune persone hanno più successo di altre a pari difficoltà? Si domanda se una persona ha un deficit, per esempio, perché c'è chi lo supera alla grande ed è vincente e altre invece si arenano. Cosa fanno, come ragionano, quali azioni vincenti mettono in campo? In poche parole, come dire, stiamo cercando di individuare la ricetta del successo. Matera. Sì, in effetti questa domanda io l'ho inserita all'interno dei corsi formativi, perché quanto mai è opportuna, perché se noi ci troviamo a parlare nei bar, in qualsiasi luogo, i ragionamenti di solito sentiamo e ascoltiamo, al nord queste cose si possono fare, al sud no, a Bari si possono fare, a Taranto no, ma è la politica, ma sono i politici, sono le tasse, è la pioggia, il sole, chi ne vuole più ne mette. Con questa frase invece andiamo proprio a tagliare tutto questo e diciamo, allora, a parità di difficoltà, perché alcune persone hanno successe e altre no. Andiamo a capire, andiamo a vedere dal buco della serratura proprio, cosa fanno queste persone, come ragionano, come ragionano, quali azioni mettono in campo, come si comportano, quali sono i loro atteggiamenti e poi andiamo a scoprire tutta una serie di cose. Non a caso, io entro da gennaio che sto portando avanti i percorsi formativi, stiamo al decimo percorso già, abbiamo iniziato il cammino verso il successo, abbiamo fatto già il corso vent, il corso marketing, il corso zero, faremo giovedì prossimo come creare una mission aziendale e poi faremo anche come presentarsi a un colloquio di lavoro. Cosa ho fatto? All'inizio di ogni puntata io faccio venire delle persone che hanno avuto successo e che sono nella zona di Taranto, la terza, Ginose, Castellanetti, sono nostri compaesani, abitano alla traversa a fianco, stanno nella stessa zona industriale, che stanno esportando in tutta Europa, stanno esportando in America, in Cina e loro ci vengono a raccontare, i primi 20 minuti faccio parlare loro e ci raccontano cosa hanno fatto, quale sono le azioni che hanno messo in campo e che l'hanno portata a quel successo. Solo così spezziamo questo modo di dire che da noi non si può fare, il concetto che fanno passare queste persone è il si può fare, abbiamo un'azienda su Ginosa che esporta espositori da mettere nei supermercati in legno, sono degli espositori fatti in legno senza vite e senza niente, i container tutte le settimane che partono per l'America, per i giardini, Angelo Inglese a Ginosa che ha fatto la camicia al Re Carlo, un delfino che fa infissi di Ginosa che ha 50 punti di vento in tutta Italia, infissi fa, è partito come me, da piccolo falegname, questi vengono a dire la loro, vengono a dire come hanno fatto. Parola, qual è la ricetta del successo? Quale si fa a vincere? Perché magari si parte nella stessa cosa, mettiamo i ragazzini che giocano a pallone, a figlia una volta, tutti partono dalla stessa situazione, magari con una situazione familiare identica, quindi non uno dice io sono figlio di Agnelli e tu sei figlio di un contadino, beh è chiaro che il gap c'è, però nel momento in cui tutti i due partono dallo stesso livello, com'è che uno arriva in cima alla montagna e l'altro rimane a valle? Allora abbiamo scoperto in queste persone, ma l'ho scoperto anche su me stesso, allora in primis devi avere un sogno, queste persone hanno un sogno, coltivano un sogno e lo vogliono fortemente, è come quella frase di Conduelo che dice quando tu vuoi fortemente qualcosa è come se l'universo cospira affinché tu la realizzi, hanno un sogno e subito che dopo il sogno c'è la passione per quello che fanno, è questa la ricetta, non è un qualcosa di chimica, di campatinato, queste due cose, prima viene il sogno, se io ho il sogno vado a ricercare la conoscenza, anche se vado a scuola, abbiamo detto il sistema formativo, non mi dà quelle nozioni, ma vado a cercare all'esterno, perché è un sogno da perseguire e per perseguire quel sogno so che mi servono alcuni determinati dati, mi è arrivato a cercare, questa è la ricerca, il sogno è la passione per quello che fai. è il successo, quindi figlio della forza di un sogno, possiamo dire. La forza di un sogno è di una passione, è di una passione, tant'è vero che c'è una bella frase che dice tu quello che fai lo fareste anche gratis, implica, voglio dire, c'è una passione. crederci, c'è quel crederci, allora là non è facile farti imprenditori, abbiamo detto che devi affrontare tutta una serie di, in primis tutte le scartoffie a livello burocratico, i politici e quant'altro, non è un certo tipo di cultura, ma è proprio quel sogno che non ti fa arrenare, la mentalità imprenditoriale, io come imprenditore non guardo alla difficoltà, ma guardo alla soluzione già, io vado per soluzioni, non per difficoltà, perché so già che quella problematica sarà risolta e quindi vado per soluzioni, non per difficoltà, quindi il sogno secondo me, molte volte sono pure io in difficoltà, se viene prima la passione, secondo me è prima il sogno, ma subito dopo però ho la passione per quello che fai e poi anche se troverai delle difficoltà, l'altra cosa è che è importante, una delle tante azioni che poi fanno queste persone, i compagni di viaggio, devi scegli i compagni di viaggio, Luigi se io ho un sogno non è un caso che il caffè lo vada a prendere in quel bar anziché in quell'altro, perché il sogno è così forte che comincia a prendere tutti i puzzle e a metterli insieme, perché quel sogno deve riuscire e quindi tutto parte da là, come diceva Alfieri, volli, sempre volli, fortissimamente volli.